La mia eliminazione è stata quella contro Bebo Storti Per due volte mi ha scoppiato partendo io sopra Vabbè classico eh Premettendo lui ok Cri ti faccio call però ti faccio call perché ti voglio scoppiare e mi ha scoppiato Ah un galantuomo proprio Per cui alla fine sono comunque partita sopra al suo all-in perché ormai era corto ho comunque chiamato con mi sembra con K7 Lui era veramente corto e lui era sotto e al flop è uscito K7 per cui è andato in due venga E quindi sei stata soddisfatta di averlo eliminato Molto soddisfatta sì Con chi sei arrivata in EZAP? Con io Non ricordo il nome, il Fantino Il Fantino? Sì, Sorgio Vabbè dai facciamo una gaffa, non ci ricordiamo il nome, fa niente Però ti saluto È stato un piacere batterti No, non è stato un piacere batterlo perché devo dire che è stato molto corretto al tavolo A me piace moltissimo quando il giocatore che si insomma si appassiona, che vuole sì vincere quindi essere competitivo però non manca di eleganza e di correttezza È perché questa è la cosa principale al tavolo da gioco secondo me Quindi devo dire che lui è stato molto molto carino Ma siete arrivati all'EZAP pari stecco o tu eri? Sì, io ero molto più avanti di lui Alla prima mano io asso donna quindi mando tutto Lui decide di fare call con K8 ed è uscito al flop K8 Solo? È stato sfortunato diciamo Per cui ci siamo poi invertiti i ruoli Io ero sotto, lui era avanti Però questo scoppio diciamo non ti ha fatto perdere d'animo e comunque sei riuscita a batterlo No, anzi, anzi, ad un certo punto io cortissimo ho dovuto mandare tutto con le paperelle Ecco Ossia la coppia di 2 Lui ha fatto call con la coppia di 5 ed è uscito un 2 al flop Bellissimo, beh, è giusto, mi sembra giusto Senti ma quanto dobbiamo andare avanti perché io ho un attimo da fare Cosa hai da fare Cristina? Eh, io devo giocare a bingo Wow, su dove giochi a bingo? Eccomi dove gioco, su SMI Perfetto, quindi siamo allo strike up Devo chattare, devo chattare anche con i miei amici che giocano a bingo come me Va bene, allora dai un saluto a tutti gli amici di Poker Italia Web Certo, tutti gli amici di Poker Italia Web Un saluto da Cristina Quaranta, giocate a Texas Hold'em e anche al bingo Bravissima, un abbraccio, ciao Ciao Luana, ciao